Domani vado a mare, sono troppo euforico, non riesco a dormire È mezzanotte e come spesso capita la notte non riesco a dormire perché proprio sono euforico Un'energia che devo andare a mare, che è proprio... Non riesco a rilassarmi E mancano ancora 8-9 ore Devo dormire purtroppo Farò un bel video e ve lo farò vedere Grazie a tutti Grazie a tutti Apnea Salento Vai, vediamo la... venite, venite Ecco Uno Un igloo tanto grande Per una corvina Per una corvina Noi vi aspettavate un pesce gigante Oggi stiamo andando su un punto che ho trovato qualche giorno fa scandagliando Dove ho già preso un dentice Siccome è giusto una microzona di roccia in mezzo al fango e so che potrebbero essere cilentici e quindi mi comportano aspetti un po' più lunghi e impegnativi preferisco scendere con lo sgancio rapido, cioè con il pedaglio che mi porta giù con pochi chili in cintura così poi quando risalgo sono più leggeri Non amo questo tipo di soluzioni qui, mi piace scendere di solito in costante A 60 metri dal punto entro in acqua e quando siamo su un punto preciso, folle e spegno Quindi stiamo andando anche qua 20 10 Vai 1 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 7 10 10 11 12 11 11 12 10 12 13 13 13 15 14 15 15 15 15 15 16 Grazie a tutti. Eccolo. Grazie Peppe. A te Francesco. Grande Francesco e Peppe. Ai fornelli ci danno fare. Ce l'ho io nel giardino il prezzemolo. Edo non sai che ti perdi, assaggiala. Numero uno, numero uno. Peppe grazie mille. Peppe grazie. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.